Il 23 giugno, nel giorno della solennità del Corpus Domini, la comunità parrocchiale di Biccari ha accolto il nuovo parroco Don Leonardo Catalano durante la celebrazione eucaristica preseduta da Monsignor Giuseppe Giuliano in mattinata. Don Leonardo Catalano, prima della nuova nomina del Vescovo, è stato parroco a Pietramonte Corvino, iniziando da domenica il suo ministero presso la parrocchia di Santa Maria Assunta a Biccari, lasciata da Don Donato Nardone nominato parroco in Santa Maria delle Grazie a Lucera. Don Leonardo Catalano, nel pomeriggio di domenica, ha preseduto a Biccari la celebrazione del Corpus Domini, con grande partecipazione dei fedeli che, stretti attorno allo stensorio in cui si adora Gesù vivo e vero, hanno condiviso la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo con il nuovo parroco.